...e' un po' di sempre lavoro, molto ...e' no, non lavoro no ...sia, sape, cioè, aiuta sta... tanto è quello che sei a me, lavorando upciолi è una misura del ruolo di equilibrio gira sull'altro lato ti fai anche l'altro... ...e' incriata, e' incriata veramente però perché se, ve lo spiegato recuperi in qualche grado nella parte bassa del... ...curato, curato il mio tutorial domani esce in smanicata però fa freddo, attenzione